Ma se io fossi fuggito in Verlamira, quando fu sovraggiunto a Oriaco, ancora sarei di là dove si spira. Ma se a Oriago, quando me li sentì alle calcagna i sicari, fossi fuggito per la strada di Mira, sarei ancora nel mondo dei vivi. Questa parte del passaggio del canto quinto del Purgatorio della Divina Commedia, in cui si parla di Oriago. E forse sono in pochi a saperlo. Sulla facciata di Palazzo Moro, lungo la riviera del Brenta, si vede la targa con tale verso. E in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri, Paolo Lucarda, consigliere comunale e impresario funebre, ha pensato a un'interessante iniziativa. Allora dentro me ha detto che non si può passare davanti a una storia e non capirne le origini che sono tra l'altro le nostre origini anche del territorio mirese. Anche perché ho consultato prima di farlo diverse persone, credetemi, il 90% non era in grado di rispondermi perché Dante ha citato Oriago. Paolo mi ha chiamata e mi ha detto so che tu sai tante cose del nostro paese, del nostro territorio. Ho fiducia in te, scrivimi questo libro. Ed ecco che è nato questo volume che racconta attraverso il dialogo tra una mamma e un bambino questo passaggio del Purgatorio e soprattutto perché Dante l'abbia citato. Questo è un anno speciale anche per Venezia. Non a caso la nascita di Venezia viene posta il 25 di marzo. Non a caso il 25 di marzo, giorno dell'annunciazione, Dante inizia la scrittura della Divina Commedia. Quindi sono storie che parlano di vita che inizia di vita nuova. Il libro è destinato agli alunni ma non solo. Le classi sono chiuse, se appena riapriranno le distribuiremo a tutti i 1700-1800 ragazzi delle scuole elementari del nostro territorio. Il libro è stato fatto interamente gratuito, quindi chi lo volesse può venire nelle nostre sedi, nelle nostre agenzie che sono dislocate sia del territorio qua e può ritirare una copia gratuitamente. Grazie. 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 Grazie.